Chi siete? Fugiaski. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. Nord. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E nascondersi solo per sopravvivere vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero saremmo morti. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Capisco come ti senti. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Forse non sono mai stato libero. Forse ero solo quello che il mio padrone mi ordinava di essere. Ma ora... Devo decidere chi sono davvero. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere. Nient'altro. Qui si è al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. No, non lo so. Grazie a tutti Grazie a tutti Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina Penso volessero divertirsi Non voglio spegnermi No, io non voglio spegnermi 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 Chi ha scoperto, Jericho? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte. A questa gente servono componenti e sangue blu, perché nessuno se ne sta occupando? Fosse così facile. Non possiamo mica andare a chiederlo alla Cyber Life. E in ogni caso nessuno osa lasciare Jericho. Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato. Noi. Grazie mille. Non ci accennite. Non ci accettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente moriamo piano piano. Non è abbastanza. Con niente morire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.